Dalla funzione ACE, il programma calcola in automatico la deduzione, definita aiuto alla crescita economica. Ed introdotta, per incentivare la capitalizzazione delle imprese. Nelle aziende soggette ad IRS, il contributo è calcolato confrontando due grandezze. E applicando la percentuale sulla minore. Il patrimonio netto, è la somma dei saldi di fine periodo, di tutti i conti presenti in tabella. La base ACE, comprende il saldo dei conti, che hanno subito delle movimentazioni nell'anno. Il saldo può essere considerato per intero, oppure calcolato a partire dalla data del movimento. I conti automaticamente riportati in tabella, sono tutti quelli associati ai codici CE, relativi alle voci di patrimonio netto. Puoi eseguire una stampa per visualizzare tali codici CE. In stampa, vedrai anche quali codici sono elaborati per calcolare la base ACE, e come avviene il calcolo. Insieme a questi conti, viene riportato in tabella, il risultato d'esercizio, calcolato dal programma. Se nella tua azienda, sono presenti dei conti che devono rientrare nel calcolo, ma non sono associati ai codici CE e elencati in stampa, dovrai inserirli manualmente. Dovrai indicare, se il conto determina la base ACE. E se il calcolo deve avvenire per intero, oppure ragguagliato ad anno. In questo caso, dovrai specificare, anche la data del movimento. Nelle aziende soggette a Virpef, non occorre determinare la base ACE. Il programma calcola il contributo direttamente sull'importo del patrimonio netto. Il contributo ACE, viene riportato nella funzione di riconciliazione civile e fiscale, dove concorre alla formazione del reddito netto, su cui calcolare le imposte. Come vedi, la deduzione si applica sul reddito, al netto di perdite, pregresse. Il contributo, non può generare una maggiore perdita, se si verifica questo caso, l'eccedenza sarà portata in deduzione, nei periodi di imposta successivi.